Allora ragazzi, benvenuti alla Kung Fu Academy! Hello everybody and welcome to the Kung Fu Academy! Oggi ragazzi, se ne sarete degni e ne darete prova, potrete diventare dei veri maestri di Kung Fu! Proprio come il leggendario Guerrero Rodone e i Cipri Ciclioni! Beh, forse non sono più leggendari come loro, eh! A meno fino a che non salverete il mondo e il paio di volte! Ora ho bisogno di tutti i bambini qui che è di forza! All the kids here in front stand in venite e vitte! Tutti i bambini con la macchina, la tronda è in piedi! Venite, venite, venite! Everybody here in front in the yellow part! Molto bene! Allora state ben larghi, ok? State un po' larghi perché dobbiamo fare un allenamento, quindi dovete stare, avere lo spazio per muovervi, ok? Efect the space all around you to don't keep the other students doing the training! Molto bene! Allora, come dice sempre maestro Shifu, prima di iniziare a scuola dovete parlare a camminare! Questo cosa vuol dire? E iniziamo dalle basi, iniziamo dal saluto! Fate come me, ok? Dritti con la schiena! Molto bene! Unite le mani come faccio io, con io, eh! Perfetto e facciamo un grande inchino! A di pao! Molto bene! Un'altra volta senza più sentimento! Porta! Grande inchino! Un piccolo applauso in settimana dal pubblico! Cari signora, lei deve battere le mani! Dai! Bravo! Ok, perfetto! Allora, attenzione ragazzi! Prima di iniziare abbiamo bisogno di un segnale, no? Per iniziare l'allenamento! Will it assign up? E poi ci è stato il training! Easy boy! Vuole venire qui a suonare il gong! È stata una mano prima lui! Vieni, 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 vieni! Vieni! Come ti chiami? Qualche ne hai? Samuele, sette e mezzo! Allora, forza, vieni qui con me! L'importante, eh! Al mio segnale, con questo, alla parola Go! Quando dico Go, lo colpisci fortissimo, ok? Non preoccuparti, non si rompe! Solo quando dico Go, ok? Poi, tutti i tridici, l'attenti, di nuovo pronti? Perfetto! Unite ancora le mani, facciamo un inchino! Uno, due, tre, e... Go! Bravissimo! Molto bene! Che potenza! Bravo, 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 bravo! Allora, attenzione! Venite pure un po' più avanti, eh! Non vi mangio solo! Perfetto! Allora, andiamo avanti con l'allenamento, ragazzi! Ora facciamo i cinque stili dei cinque cicloni! Quanti stili facciamo? Matematica zero! Cinque, eh! Ok, bravo! Iniziamo con la scigna! Le tese spiede come faccio io, le macchie stai, bene! Le braccia in questa maniera! Perfetto! Al mio tre, le facciamo girare così, ok? Pronti? Uno, due, tre! What? Forte! Uno, due, tre! Ok! Le scucola blu! Woohoo! E equilibrio! Vediamo che scade... Non è danza, eh! No! Così che mangio! Brava! Molto bene! Andiamo con la mantide indietro! Devanti! Perfetto! Agli attacchi lati ora! Prima di qua e poi di qua! Seguitevi! Woohoo! Pa 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 pa! Ora di qui! Woohoo! Pa 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 pa! Molto bene! E ovviamente lo stile del Panda! Giù, giù, giù! Forse, forse, forse! E bravissimi! Un altro applauso spontaneo! Perfetto! Troppo che mi piace! Molto bene! Allora, attenzione! Complichiamo le cose, eh! Ora rifacciamo il pulso da capo! Pulso più veloce! Alla fine, nella posizione del Panda! Io dirò, grandioso! Voi dovete tornare in Caduce! Ok? So, we do this one, we clean again! And the Panda pose! I will say, grandioso! And you have to bring Caduce! Facciamo la prova! Grandioso! Caduce! Prendo sonno! Forte! Siete nei guerrieri! Grandioso! Ok, allora forse! Ricominciamo dal saluto! Le mani, le hands! Molto bene! Veroce, mi raccomando! Andiamo con il saluto! E via! E andiamo con la scimmia! What? La viscera! Fa! Giù con la gru! Woohoo! Molto bene! Giù con la mantide! Perfetto! Facchiati! Wa! Pa, 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 pa! Di qua! Wa! Pa, 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 pa! Giù con il Panda! Forte, forte, forte! Uno, due, tre! Grandioso! Grandioso! Ripassiamo a spena, non lo ripassiamo! Giù con il Panda! Uno, due, tre! Grandioso! Ok, un applauso ci sta! Molto bene! Perfetto! Allora ragazzi, direi che stiamo andando con tutto, ma ora abbiamo bisogno dell'aiuto di un vero maestro di Kung Fu! con il vero maestro di un vero maestro di Kung Fu! Abbiamo qui per voi oggi uno dei cinque cicloni! Uno dei 5 furiosi di CS Today! Andiamo la più forte! La più coraggiosa! Ma anche la più dolce! La più venera! E volevo dire, la più curiosa! Porta l'applauso alla nostra grandissima... Vive! Benvenuti, guerrieri! Welcome, warrior! Siete tutti pronti a seguire i miei insegnamenti? Sì, come c'è! Aiutati tutto, my friend? Di nuovo! Sì! Perfetto! Avete imparato lo stile scimia, vita, mantide, gru e persino lo stile campo! Ma ora vi insegnerò la mia tecnica più straordinaria! Lo stile tigre! Forte questo, attenti! I will show you my tiger style! Ok ragazzi, portiamo tutti quanti i tigre, ok? Adesso ho presa i tigre! Facci vedere come si fa! Mettete le braccia in questa posizione! Così! And when I say go, you make a step and make a tiger's grab! No, spai tigre, non ho capito! Quando dico go, fai un passo avanti con un tigre da tigre! Pronti? Ready? Go! Bene! Very good! Ma so che potete fare di me! E passiamolo! One more time! Pronti? Ready? Go! Più forte! Fatemi sentire il vostro... Grav! Uno, due, tre! Wow! Molto bene! Bravissimi! Maestro Shifu sarebbe davvero colpito! E lui non è mai colpito! Well done! È vero! Master Shifu would be impressed! And he's never impressed! Continuate ad allenarvi e anche voi potrete unirvi ai cinque cicloni! È certo ragazzi, perché se credete veramente in voi stessi, ogni cosa è possibile! If you guys, if you really believe yourself, everything is possible! Pannao Pixel Prize! Abbiamo una grande sorpresa ragazzi, solo per voi oggi, il coleghiero della quale è venuto a trovarsi, allenato direttamente dal maestro Shifu per proteggere la parte della parte! Passiamo forte l'applauso e chiamiamolo tutti assieme al nostro... Bo! Bella! Dove? Dove? Dai qua! Ciao Bo! È davvero un onore! È un grande honor! Abbiamo il più grande coleghiero di Kool Kool di Subicenti, qui per voi oggi! E ti dici poco che ci rende un onore per me essere qui con voi! È un grande honor to be here with you too! Sì! Benvenuto Bo! Ragazzi, questa è davvero l'occasione perfetta per mostrare a voi il vostro stile di Kool Kool! Ehi Kool Kool, vuoi vedere qualche mossa? Want to see some more? Facciamo vedere l'allenamento ragazzi, dai! Certamente, non vedo l'ora! I can't wait! You'll be learning some more! Eh? Li ho allenati! E io! Surordinario! Bene ragazzi! Kool Kool! Non solo Bo! Ok? Mi ha fatto quell'allenamento così duro! Eh sì! Ma non preoccupate! E si può dire una serie ero! BAM! Potremmo non riconoscere uno solo! Molto duro! Durissimo! Durissimo! E poi vale uno! Ma è quello che la rende così sorprendente! Anyway! Let's see those words! Show me what you got! Let's do this! Ok allora ragazzi! Ripassiamo tutto l'allenamento! Ricordate la fine della mossa del panda! Io dico grandioso! Buon scaduto! From the beginning again! And remember in the panda pool! I will say grandioso! And use scaduto! Andiamo per la cina! Pronti! Uno, due, tre! Andiamo per la cina! Andiamo! Anena fina! Andiamo! Andiamo! Woohoo! Perfetto! La mattina è dietro! E vai per la tigre! Wow! Super in base! Forza, forza, forza! Uno, due, tre! Grandioso! Grandioso! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ferma a posto tutti quanti da questa parte con il nemico con la maglietta.